il leader del carroccio cerca la sintesi anche per zaia certificazione da usare in modo limitato comunale a milano manifestazioni distinte per leghisti e fratelli d'italia noi chiediamo milioni di tamponi rapidi gratuiti o a basso prezzo per milioni di famiglie di italiani in difficoltà matteo salvini vuole uscire dalle posizioni poco comprensibili sul green pass e punta diritto sui tamponi il tampone rapido e gratuito è una soluzione spero che nessuno si metta di traverso certo non è affatto chiaro come si comporterà la lega quando arriverà in consiglio dei ministri il cosiddetto green pass 2 quello che si estenderà a un maggior numero di categorie tra cui i dipendenti pubblici e privati il leader leghista lo ha ribadito io non ho visto ancora nessun documento e non posso commentare io sono solito leggere i documenti prima ma visto che nessuno ancora nulla in mano aspetto certo l'allargamento della necessità di green pass ai dipendenti a salvini non piace anche se piace alle aziende saremo gli unici in europa a farlo ha aggiunto aspetto di leggere cosa c'è scritto però e poi commento anche se fino a questo momento non è chiaro se il consiglio dei ministri previsto per giovedì 16 settembre preceduto dalla riunione della cabina di regia includerà l'estensione del green pass ai dipendenti delle aziende private né peraltro è stato convocato salvini da mario draghi eppure la politica fatta di distingue sulla lotta al covid anche nella lega è compresa da pochissimi tanto che salvini ieri ha sentito il bisogno di sottolinearlo ho appena sentito zaia che ribadisce che il green pass va usato in maniera limitata noi siamo contro l'obbligo vaccinale siamo per la spiegazione e l'educazione il governatore veneto ieri ha definito una montagna di fantasie e i resoconti giornalistici che parlano di una divisione della lega tra governisti e il leader anche se dal friuli venezia giulia massimiliano fedriga torna ad aprire al green pass esteso dove è utile utilizzarlo come nei posti di lavoro se la scienza ritiene che sia utile allora va utilizzato per quanto lo riguarda di certo non è contrario